eccoci oggi il nostro percorso è ci porta in un pezzo di storia dei ricagliari l'antica enoteca cagliaritana dal 1935 una storia di compravendita produzione di vini che arriva sicuramente da lontano e oggi sono in compagnia del signor raffaele azioni buongiorno oggi nella nostra bottiglia io le chiedo subito oggi ci troviamo nel cuore dell'antica enoteca cagliaritana ma le chiedo subito la prima volta che è entrata in una cantina se lo ricorda una cantina a casa mia intanto che noi avevamo la cantina avevamo messo le prime vigne nel 1945 e sono entrato per la prima volta in vigna nel 49 cosa ha provato quando ha adesso non saprei dire insomma perché a quattro anni cinque anni insomma non è che si provino emozioni così ci sono questi ricordi indelebili sicuramente di emozione non ne ho provato sicuramente oggi si oggi si oggi oggi ci troviamo in un momento non non facile diciamo così incredibile queste mascherine lo dimostrano sempre lei però ha portato avanti possiamo dire a livello internazionale lei si occupa di tante etichette tanti brand però ovviamente nasce dal cuore sardo assolutamente siamo tornati a produrre dei vini in territorio di sanduri insomma non molto abbiamo tre ettari con i miei figli ci stiamo portando avanti questo discorso ma lei quando consiglia un vino avendo tante tante etichette tiene gli equilibri noi ci conosciamo da qualche anno lei tiene gli equilibri il vino è un po come un vestito no lei lo consiglia anche a casa con la mente in base alle emozioni che proviamo noi al nostro gusto così non privilegiiamo nessuno assolutamente andiamo secondo il nostro nostro gusto il nostro piacere la salute chiedendogli una cosa signor raffaele ma il cambiamento deve spaventare beh io oggi non sono molto molto ottimista diciamo se i nostri governanti non fanno qualcosa di serio è difficile uscire però ognuno di noi può cambiare il meglio non deve spaventarsi stiamo facendo di tutto speriamo che ci diamo una mano e poi alla fine ne usciremo io ringrazio il signor raffaele noi andremo a curiosare un po nell'antica enoteca caglianitana dove ci sono tante cose oggettisti oggetti oggettisti tra le cose caratteristiche e poi lascerò il signor raffaele nelle mani della nostra barbara per il nostro minuto di vino al presto